Osso umane ritrovati all'interno della grotta dell'Attabussa, all'interno della riserva dell'Alpe della Luna, a pochi chilometri da Badia a Tedalda. Un ritrovamento che adesso inevitabilmente riaccende a riflettori sulla giallo di Guerrina Piscaia, la casalinga scomparsa da Carafello. La speranza diciamo che non è mai scomparsa soprattutto per i familiari. Il luogo tra l'altro è compatibile con gli espostamenti di Alabi nei giorni successivi al primo di maggio, quindi ecco speriamo ora, io sono sempre stato convinto che prima o poi i resti si sarebbero ritrovati, speriamo che sia questa la volta buona. La donna scomparve nel nulla il primo maggio 2014, il suo corpo non è mai stato ritrovato. Per l'omicidio e per l'occultamento del suo cadavere è in carcere a scontare 25 anni di reclusione dopo la condanna definitiva in Cassazione padre Gratiena Labì, all'epoca dei fatti parroco del paese che si trova nel comune di Badia Tedalda. Ed è proprio tra queste montagne che congiungono Toscana ed Emilia Romagna che alcuni escursionisti hanno ritrovato le ossa all'interno della grotta della Tabussa. È probabile che se i resti sono di Guerrina Piscaia si può dedurre con relativa certezza che probabilmente non è stato lui l'unico a trasportare il corpo, però queste sono deduzioni che faremo dopo. Le ossomane sono state prelevate lunedì scorso dai carabinieri del nucleo operativo di Sansepolcro. Aspetterà adesso ai laboratori del RIS di Roma stabilire datazione e sesso per poi procedere con l'estrazione del DNA da comparare con quello di Guerrina Piscaia. Questa settimana credo faranno l'esame del DNA anche se credo da una prima analisi già possono distinguere se sia resti di uomo o di donna, quindi già quello sarà un passo. Estrema cautela al momento da parte degli inquirenti, ad un primo esame le ossa, femori, bacino ed altri frammenti sembrerebbero risalenti nel tempo.